eccoci e bentornati sul mio canale nuova breaking news su call of duty world war 2 nel 2005 usciva il titolo dell'infinity world call of duty 2 quanti di voi si ricordano questo gioco e quanti di voi l'avevano giocato bene una mappa del titolo appunto del 2005 di call of duty 2 arriverà su call of duty world war 2 avete capito bene e big games versione australia ha pubblicato l'immagine che state vedendo che svela un contenuto bonus per call of duty world war 2 legato al season pass infatti potremo leggere carentan bonus map carentan era appunto una mappa originaria di call of duty 2 poi adattata su call of duty 4 model warfare e call of duty model warfare remastered nella mappa che prese il nome di chinatown a quanto pare questa mappa dovrebbe essere contenuta all'interno del season pass perché come vedete dall'immagine praticamente è legata proprio al pacchetto dei dlc di call of duty world war 2 potremo appunto leggere call of duty world war 2 season pass carentan bonus map al momento sledgehammer games ed activision non hanno ancora rilasciato informazioni in merito ma questa immagine ci fa ben sperare per i contenuti del season pass del titolo qui sotto nei commenti fatemi sapere quanti di voi hanno giocato su call of duty 2 ma soprattutto se si ricordano la mappa carentan che era una mappa ricca di vegetazione con un paesino da esplorare al suo interno e noi ci vediamo con tanti nuovi video